Ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, ha fatto una discussione puntuale, rigorosa, evidenziando le malefatte. Il PM Andrà Claudian ha concluso la sua lunga requisitoria chiedendo il processo per tutti gli imputati per il crack della vecchia Banca Etruria, 23 tra ex presidenti, vice presidenti, direttori generali, consiglieri e sindaci revisori. Ha ribadito le distrazioni, le dissipazioni che sono state operate attraverso condotte dolose e colpose di tutti coloro che avevano l'obbligo di verificare l'andamento dell'erogazione dei finanziamenti. Erogazione dei finanziamenti che fin dall'inizio si sapeva essere di sicura non recuperabilità. Quattro invece le domande di rito abbreviato che prevede in caso di condanno uno sconto di un terzo della pena presentata il gruppo Giampiero Borraccia. A richiedere il rito alternativo l'ex presidente di Banca Etruria, Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi, l'ex vice presidente Alfredo Berni, tutti chiamati a rispondere di bancarotta fraudolenta, e l'ex consigliere Rossano Soldini, imputato per bancarotta colposa. È una scelta ponderata alla luce di quelle che sono le strategie dei difensori. La prossima udienza in programma per il 24 gennaio 2018 sarà il turno delle parti civili, oltre 2.000 quelle ammesse dal giudice. Si tratta di persone che hanno perso tutti i loro risparmi e quindi chiedono un risarcimento morale nella speranza che effettivamente...